salva gente allora giorno dopo parma lazio ormai è abitudine che che do dei voti insomma chi è sceso in campo intanto subito come sempre prima di iniziare come pratica ormai per qualsiasi canale dove capitate se non ti sei ancora iscritto iscriviti a questo canale non costa nulla come non costa suppongo negli altri canali basta cliccare iscriviti cliccare sulla campanellina ricordarsi di cliccare sulla campanellina importante per rimanere aggiornati su tutti i contenuti del canale che sono anche extra calcistici oltre che calcistici oltre che la lazio anche altre squadre insomma clicca guarda il canale se poi dopo non il canale non ti soddisfa ti puoi anche disiscrivere però intanto iscriviti alla fine dei video cosa che per me è gradita se ti andrà ricordati di lasciare un like allora ieri partita tutto sommato ragazzi la partita è stata giocata è stata giocata anche abbastanza bene però ricordiamo che davanti abbiamo sempre il parma quindi era anche facile poter fare una buona partita anche se anche se ricordiamo lo dico soprattutto gli amici naziali che dicono vabbè abbiamo giocato corpo armato e quasi ho capito ma bisogna sempre vincere le partite perché il calcio non si sa mai e noi ne sappiamo qualcosa visto che tutte praticamente abbiamo pareggiato o perso con quasi tutte quelle dell'ultima in classifica quindi bene la vittoria e bene insomma che abbiamo comunque giocato in modo abbastanza convincente tant'è che tant'è che i voti sono condizionati proprio dalla prestazione boh se noi ci avevamo davanti il parma in questo caso non è colpa nostra partiamo con Reina Reina 7 ragazzi la settimana scorsa ho detto che Stragoscia mi dava l'impressione proprio di uno che stava lì tanto per proprio scarico non mi sembrava proprio uno uno che mi stava a far piacere gli ho dato un voto basso ho detto che mi sembrava un atteggiamento evidente di chi era proprio non ci metteva quello che ci doveva mettere tant'è che infatti si dice che ieri non sia stato neanche convocato proprio per questi atteggiamenti per questo suo modo perché il ragazzo si sente si sentirebbe non preso in considerazione ho capito ma di fronte a un Reina che all'età che c'ha te fa quelle quelle parate si distende scende velocemente a terra è sempre energico guidate qua e guidate là non è un palo fermo cioè non è caro Stragoscia non è il portiere non è che basta che sta in porta il portiere ha anche altre cose ma anche l'atteggiamento proprio Reina ieri era un atteggiamento da 7 perché poi le parate ne ha fatta una ma l'atteggiamento in porta era da 7 uno che guida anche aiuta la difesa guidandola stando attento ai passaggi che fa come gioca col pallone quindi ragazzi infatti mi sono stupito di quelli che davano 6 e mezzo l'altra volta a Stragoscia cioè ho detto ma che cacchio guardate ma anche in questo caso vi dirò dei voti che andranno contro certi voti con letto che non capisco proprio la gente che cosa guarda comunque per quello che vedo io Reina 7 Luiz Felipe altro caso assurdo per me Luiz Felipe ieri era da 7 ieri che cosa ha sbagliato solo qualche uscita ma io ho letto gente soffre l'avanzata dell'avversario ma è stato il migliore in difesa è intervenuto su tutti i palloni più pericolosi ma da che cazzo c'è io ma come fate ma pure cose laziali ma pure cioè pagine laziali 5 e mezzo 6 a Luiz Alberto cioè sì Luiz Alberto su Luiz Felipe scusate Luiz Felipe 5 e mezzo 6 ma io dico ma veramente ma veramente cioè io per carità io mi sembra che non so se la settimana scorso dovete ne fare io ho dato 5 e mezzo ma uno deve pure vedere il ragazzo che fa boh per me ci stanno dei voti che so condiv... o uno non vede le partite o so condizionati dal personaggio perché non è che non si spiega ieri per me era da 7 migliore in assoluto in difesa Acerbi 6 e mezzo perché comunque non è stato il migliore ma è sempre Acerbi ha fatto benissimo nel suo ruolo si è cagato un gol però dice che ha un po' problema a linguine speriamo che non si sia aggravato con quella mezza spaccata che ha fatto per cercare di segnare però Acerbi 6 e mezzo non è stato da 7 ma ne manco semplicemente sufficiente Rado invece 6 Rado ha fatto una restazione sufficiente senza infamia e senza lote io non ho visto niente in particolare c'è chi gli ha dato 7 a Rado cioè io veramente boh vabbè comunque per me 6 Patrick senza voto vabbè è entrato non ha fatto danni fortunatamente però ha giocato per me troppo poco per dargli un voto quindi senza voto comunque non ha giocato male quindi anche se fosse stato sufficiente al massimo insomma non ha fatto danni Lazzari 6 e mezzo Lazzari 6 e mezzo perché c'è chi gli ha dato anche 7 però dai ragazzi in tutta la partita a parte ho detto non aveva grandi avversari di fronte ma poi sì ha fatto il cross per il primo gol ha fatto belle giocate però dietro sempre continuo a peccare un po' e poi non sempre gli sono riuscite le cose quindi 7 mi sembra eccessivo mi sembra un 6 e mezzo può bastare Marzic dall'altra parte 6 e mezzo Marzic invece fa il suo nel senso quando vanno avanti cerca anche di proporsi insomma comincia anche a tirare in porta è il che mi piace però dovrebbe tirare un po' più di forza non so perché tirare sempre molto molto piano e dietro recupera parecchio quindi 6 e mezzo e ci sta tutto lei va 5 e mezzo ragazzi lei va 5 e mezzo perché per me è l'unica insufficienza ma ditemi quello che vi pare sicuramente sta facendo sta cercando di far bene ma non gli riesce pure ieri non mi è piaciuto molti passaggi sbagliati pochi recuperi non lo so non l'ho visto sufficiente per me è l'unica insufficienza e c'è chi chiede a 6 e mezzo ma vabbè ho detto sarò io che vedo le partite in modo molto strano poi fatemi sapere i commenti se sto a sparare minchiate che sto dicendo voti a caso ma a me mi sembra a parte tutti sti 7 che ho visto in giro ripeto stavamo giocando contro il Parma quindi bisogna pure un attimo capirli i voti però su certi personaggi cioè lei va 6 e mezzo ieri mi sembrava eccessivo comunque fatemi sapere la vostra Milinkovic 7 in questo caso il 7 lo do perché non solo ieri la quantità come dico in ogni partita la quantità i recuperi l'essere sempre presente in avanti indietro fare da dica insomma ho detto fa un lavoro che è da meno nell'occhio ma è sempre costante e di quantità ieri ci ha messo pure un po' di qualità perché poi il gol di Caseto quel tocchetto insomma si è proposto più avanti ieri una bellissima partita secondo me uno dei migliori quindi 7 Luiz Alberto 6 e mezzo in questo caso c'è chi da 6 e mezzo c'è chi da 7 c'è chi addirittura chi gli ha dato 7 e mezzo mo 7 e mezzo non mi sembra ragazzi sta sicuramente migliorando sta sicuramente ritrovando quella vena di cercare i passaggi filtranti ieri ha fatto un bel gol però io da Luiz Alberto mi aspetto di più questo Luiz Alberto ancora non ci basta quindi do un 6 e mezzo perché il Luiz Alberto da 7 7 e mezzo è un altro per me quindi 6 e mezzo vabbè i subentrati ACPRO 6 ha fatto il suo non ha fatto nulla di che ha corso come ha potuto è stato pure ammunito però non mi è sembrata una partita da più di 6 insomma Cataldi uguale 6 è entrato ha fatto leggermente anche meglio di Leiva perché comunque si è proposto anche in avanti ha fatto qualche recupero quindi leggermente meglio di Leiva quindi 6 Decian Anderson senza voto più o meno come Patrick sono entrato nello stesso minutaggio in realtà anche in questo caso potrei dare un 6 nel senso voglio ho dato un senza voto però perché in realtà non è solo il minutaggio che in alcuni casi io lo valuto anche perché mi sembra che una decina di minuti hanno giocato per me è sufficiente anche per dare un voto ma proprio perché non ci sono state particolari azioni dove si sono messi in mostra sia lui che Patrick quindi diciamo un senza voto Pereira 6 perché Pereira ha fatto delle cosette anche interessanti non ha portato nessun contributo però insomma si è visto che era entrato questa volta con figlio un po' diverso con voglia di fare Caseto 7 Caseto c'è ragazzi meno male che Caseto c'è lo dico sempre io penso di essere uno dei pochi che non ha mai cambiato più che altro idea su Caseto non l'ha mai abbandonato anche quando veniva criticato secondo me ingiustamente perché gioca una partita non fa gol e allora ha una pippa o devo darlo via cioè ragazzi Caseto per quello che è costato e per quello che sta dando in questi anni a Lazio è solo da fargli un monumento e poi ragazzo mi sembra voglioso di fare e comunque mi sembra anche molto attaccato alla maglia perché è l'unico è vero che lo fanno in molti nel senso in molte squadre è l'unico che ogni volta se batte il petto che fa mostrare la maglia che bacia che bacia l'aquila insomma ragazzi come si fa a pensare solamente lontanamente ad avvia Caseto ripeto quantomeno fino a giugno poi a giugno se ci fosse una rivoluzione posso capire se Caseto venga messo in questa rivoluzione venga dato via per magari ecco io ho detto so che l'Inter è sopra Caseto così dicono io lo darei via solamente solamente se l'Inter si andasse a a riprendere Di Marco e lo girasse a noi allora per un Di Marco sacrificare un Caseto visto che tanto Murici non sollevamo dalle palle forse forse ma oggi come oggi non esiste cioè da gennaio metà via Caseto per chi? per cosa? ho sentito uno scambio Caseto Minamonti ragazzi non scherziamo proprio non scherziamo proprio Immobile 6,5 Immobile 6,5 perché ieri ci ha messo Krinta ci ha messo qualche passaggio interessante come al solito ha la fascia da capitano e fa il capitano quindi il 6,5 se lo merita tutto chiudiamo con Inzaki che è un altro 6,5 anche lui ha messo la formazione che doveva mettere sta cercando i gambi non ha fatto particolari errori diciamo pure lui spero che incomincia a capire che è fondamentale non togliere Luis Felipe e quantomeno non troppo presto soprattutto non togliere Milinkovic non togliere Immobile insomma spero che abbia capito che la partita che ancora ce l'ho qui ragazzi con Immina perché quella era almeno da pareggiare almeno da pareggiare è stata buttata via perché tu hai tolto come ieri ha fatto Conte facendo pareggiare la Roma la Roma che comunque meritava il pareggio secondo me però è stata facilitata sicuramente da dei gambi a Inzaki proprio cioè tu mi levi Hakimi e mi levi Lautaro Martinez è come se mi hai tolto più o meno Milinkovic e Immobile con il Milan cioè hai permesso all'avversario di avanzare e non preoccuparsi più di tanto perché Ienorta che gli metti Kolarov e Perisic alla Roma ovviamente si è preoccupata molto molto di meno e sta a difende e si è buttata in avanti anche perché doveva pareggiare quindi errore gravissimo ieri di di Conte ho detto al pari di quello di Inzaki contro il Milan ragazzi qui chiudiamo ci vediamo con un prossimo video se tutto se tutto se tutto va bene aggiornamento credo che per giovedì massimo venerdì in giornata dovrei avere la fibra se così fosse allora vediamo il derby in un altro modo e il commento del derby verrà fatto subito dopo la partita e non praticamente a distanza di 7-8 ore Olive Dolci al prossimo video ricordatevi iscrivetevi like e soprattutto la campanellina